Sono molto contento di essermi qualificato, è un appuntamento sempre prestigioso come il campionato guidatorio. Mi sono bastati dei piazzamenti, cerchiamo di far meglio poi nella semifinale. Sono contento di essere venuto. Sarebbe stata una giornata molto gradevole. Siamo arrivati come secondi in classifica. C'è una soddisfazione da gentlemen arrivare qui con i professionisti e fare il campionato italiano a Monteciorgio. Le corse sono un po' inaspettate. Per il resto tutto bene. L'importante è che ci siamo divertiti e è andato tutto a buon fine. Diciamo che è stata una giornata abbastanza buona. I cavalli erano in grande ordine. Sono stato abbastanza fortunato già dalla prima batteria. Quindi dopo ho trovato cavalli in grande ordine e mi è andato tutto bene. Era una giornata molto positiva. I cavalli hanno corso molto bene. Siamo stati fortunati. Bellissima manifestazione. Fatta dall'Ippodromo di Monteciorgio. È la prima volta che ci partecipo. È andato tutto per il verso giusto. Ho vinto la quinta corsa e fortunatamente mi sono qualificato. Un complimento all'Ippodromo di Monteciorgio. con Mirko Malini che ha organizzato questa manifestazione. René Legati. Mi sono qualificato per le semifinali di agosto. Diciamo anche abbastanza per fortuna perché un secondo e un quarto si poteva fare meglio. Ma secondo me la cavalla che aveva più chance non era perfetta di andatura. Mi ha sbagliato. Quindi abbiamo perso dei punti importanti lì. Però con il secondo di Trivet Cash ci ha aiutato con dei cinque punti importanti. E niente siamo qua. È andata bene. È sempre un piacere partecipare al campionato guidatori. Speriamo di andare un po' meglio nella semifinale e magari poi arrivare in finale.